Il prebiscitario sia referendum per la riduzione del numero dei parlamentari per Pistoe alla conseguenza della sparizione del proprio collegio elettorale. Diminuendone il numero da 630 a 400 diputati e da 315 a 200 senatori, dopo l'approvazione a ottobre della legge costituzionale che recepiva l'esito del voto popolare, l'Istituto Nazionale di Statistica ha redisegnato i collegi e Pistoe viene di fatto smembrata venendo rifattita tra diversi collegi toscani. Per gli uninominali della Camera sono due, il collegio 03, nel quale fanno parte Betone Cotigliano, San Marcello Piteglio e tutti i comuni della Valdignevole, con alcuni comuni di Prato e alcuni di Lucca, che ne è il centro principale. Nel secondo collegio, l'uninominale 06, vengono assorbiti il comune di Pistoia, con Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese e Seravalle Pistoiese, accorpati a comuni della città metropolitana di Firenze e comuni di Prato, che ne è il centro principale. Per il Senato, la provincia di Pistoia finisce in un unico collegio, l'uninominale 03, che comprende Massa, Lucca e Prato, e quest'ultimo ne è il centro principale. Per i collegi plurinominali, vengono ancora più estesi i confini delle maxi circoscrizioni sulla cui base già si è votato nelle elezioni del 2018. Il ridisegno sulla base di calcoli sui residenti nelle varie province, con Massa, Carrara, Siena, Pistoia, Grossete e Prato, che non hanno popolazione sufficiente a assicurare un collegio autonomo, secondo lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. La questione, al di là dell'apparenza, è tutt'altro che meramente tecnica, dato che nei collegi nei quali sono ripartiti i comuni pistoiesi sono nettamente minoritari, sollevando in sostanza forti dubbi, per primi a manifestarlo pubblicamente nel contesto pistoiese il coordinamento per la democrazia costituzionale dell'AMPI e l'Associazione Partigiani, sulla possibilità che il territorio abbia suoi rappresentanti in Parlamento.